Piero, Sanremo e Sanremo sicuramente una selezione non facile ieri sera ma avete dato il meglio di voi Anche i ragazzi hanno dato il meglio di loro, quindi che era la cosa più importante perché noi siamo in fondo una sorta di catalizzatore ma non certo l'elemento principale quindi bello, bella selezione, bravissimi ragazzi, hanno cantato tutti bene quindi vuol dire che anche nella performance live i ragazzi sono pronti Per quanto riguarda la scelta ha colpito l'eterogenità delle proposte musicali? Sì, decisamente interessante anche questo, quindi vuol dire che a Montice è stato un grande lavoro di selezione quindi complimenti ancora di più alla commissione Tu hai parlato di Lucchi, di Divin dicendo che ti è dispiaciuto per la loro eliminazione però è stato molto bello quello che hai detto in conferenza stampa, che loro avranno un futuro rose ho visto che sono cantatrici Assolutamente, sono due cantatrici di grandissimo livello che vabbè, secondo un meccanismo di concorso sono rimaste escluse ma che hanno tante cose da dire quindi buona fortuna Come a loro, come a tutti gli altri ragazzi che già sono in finale Grazie